Ciao a tutti dal salutatore, ciao a tutti dal salutatore è una grandissima sorpresa, eccomi qui con il bravissimo regista Massimo Boretti che noi ti conosciamo come il grandissimo attore e abbiamo visto che sei anche un bravissimo regista qui con il film allora un saluto speciale a chi lo vuoi fare? A tutti i miei fan, a tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre vorrei invece mandare un saluto particolare a Luciano, il cosiddetto Luciano Tanino di Caeta di Caeta, che noi salutiamo tutti quanti, che ti ha ispirato a questo film come è stato lui, è l'incontro che ho avuto con lui che mi ha ispirato e ha dato in là la sceliciatura ecco perciò noi lo ringraziamo, ciao a Luciano, grazie anche lui è una sorpresa per te perché te la meriti, io ti voglio regalare una cosa che regalo ai grandi la marina del salutatore e poi ho un'altra sorpresa, doppia sorpresa per te allora, da radio in Agrigento di cui io sono lì inviato di Parzialmente Sclerato ti do il braccialetto, questo è il mio primo braccialetto che consegno, scegli tu quale vuoi grazie il buon giallo o tutte e due questo c'è la sag, ecco perciò salutiamo pure gli amici di Parzialmente Sclerato ciao, io saluto ad Agrigento e dalla Sicilia con furore, ecco il film è ambientato anche in Sicilia ciao, ciao, grande parte, no, anche, una parte, Puglia, 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 che si parla? ciao, grande parte, ciao